Ciao a tutti, ho il piacere e l'onore di ospitare nel nostro salottino di Aram presso il circolo ippico Le Arene Nicola Losurdo, presidente dell'Associazione Regionale Renning della Puglia e in questa occasione anche quale organizzatore del Golden Circle. Hanno lavorato in sinergia a più regioni, com'è stato questo rapporto di lavoro e questa collaborazione? Allora, innanzitutto grazie a voi, sono onorato io di essere qui e di partecipare a questo evento. Sì, c'è stata la sinergia, tenete presente che noi non ci conoscevamo, cioè io non conoscevo i presidenti delle altre regioni e grazie a questo evento li ho conosciuti e ho sicuramente subito accettato e sposato il progetto che era il progetto, oltre che del Golden Circle, anche di creare una forza di tutte le regioni del sud per poter avere una nostra presentazione a livello nazionale che in questo momento scarseggia. Allora, cosa ha motivato la volontà di perseguire un progetto così ambizioso come quello del Golden Circle, quindi di voler portare un evento di grande rilievo nell'area geografica dell'Italia, del centro sud? Allora, tanto per cominciare, diciamo, la forza trenante è stata la nostra conoscenza reciproca. Questo ci ha dato, come dire, la forza e l'input di progettare questo evento che, vorrei ribadire, non è un evento, una tantum, ma è un evento che nelle nostre intenzioni deve essere a ricorrenza almeno annuale e che poi dovrà essere ampliato con altri progetti che metteremo insieme e che faranno sì che ci sia un coordinamento da parte di queste regioni proprio per essere trainanti anche a livello nazionale. Quindi, in parte, possiamo dire obiettivo raggiunto, è possibile che ci saranno ancora dei miglioramenti, degli obiettivi futuri. Quali sono i progetti per il futuro di questo Golden Circle? Allora, cominciamo con la domanda sul raggiungimento degli obiettivi. Direi di sì. La Puglia ha risposto presente. Noi siamo, credo, almeno forse un terzo dei partecipanti a questo evento e quindi questo è stato sicuramente un evento che l'obiettivo è stato raggiunto. Gli obiettivi futuri? Beh, mai dire mai. Noi siamo intenzionati a fare degli event più importanti e per questo dovremo lavorare, ma sicuramente la volontà c'è. Quindi è stato uno sforzo condiviso per un obiettivo comune. Le risorse organizzative del centro-sud sono state impiegate praticamente tutti. Pensa che questa organizzazione porterà dei cambiamenti nel futuro del panorama del running nazionale? Il nostro auspicio. Noi vogliamo essere forti, vogliamo essere una forza tranquilla che possa però modificare le sinergie all'interno del running nazionale e quindi essere anche noi presenti e propositivi. Quindi proprio dal, prendo spunto, dalla collaborazione, dalla sinergia di più comitati di persone che quindi non sono abitualmente impiegate nel lavorare insieme. Ci sono stati degli ostacoli, delle difficoltà, dei problemi magari, che ne so, di comunicazione, di comprensione che poi dopo sono stati superati se ci sono stati e se può essere migliorato in qualche modo. Beh, tenga presente che lo sforzo organizzativo è stato notevole. Abbiamo dovuto armonizzare le nostre segreterie che avevano dei tempi, dei modi e anche dei sistemi che erano diversi. Siamo riusciti ad armonizzarle e quindi credo che sia stato positivo. Questo è stato, secondo me, l'ostacolo più importante. Grazie Nicola, è stato un piacere avere anche il tuo contributo. Grazie a voi.